buongiorno a tutte e buongiorno a tutti sabato 15 aprile ore 10 46 ore 10 46 di sabato 15 aprile vi do il buongiorno con delle notizie oggi particolarmente interessanti e come vedete ho già pronto alla verità partirò dalla verità quel quotidiano che fa arrabbiare i fact checker sempre li fa arrabbiare ma poi alla fine devono capire che non possono bloccare i quotidiani e la lettura semplice di un quotidiano attendo che siete collegati attendo voi ragazze voi ragazzi sempre che l'algoritmo voglia far vedere la mia diretta perché il dubbio è lecito e ogni tanto la voglia manca ogni tanto la voglia manca di far vedere le nostre dirette ciao a tutte ragazzi ciao a tutte ragazzi attendiamo giusto qualche istante e commissione di inchiesta le salvini che riprende in mano la palla dei migranti le in francia sono in piazza per le pensioni tutti incazzati robbi li salveranno tutti dice alessandro baglioni speriamo di no speriamo di no speriamo che la verità venga fuori che la giustizia trionfi intanto attendo attendo voi sto vedendo che la notifica non sta arrivando non sta arrivando la notifica e attendo quindi che siate collegati pochi istanti caso migranti l'europa si è svegliata solo per imporci l'onu per imporci i migranti per imporci e farci tenere a noi in italia i migranti pensate e salvini si sta arrabbiando sta tornando i salvini dei vecchi tempi il dubbio è lecito e la speranza è tanta ne capiremo di più ne capiremo di più leggendo queste pagine ok inizio vedere i primi collegati solo un organo internazionale potrà fare vera giustizia dice alessandro se in riferimento chiaramente all'inizio del titolo del titolo che parla quindi della commissione di inchiesta sì ma basta il governo deve italiano deve tutelare la nostra dignità e salute nei vostri commenti il solito specchietto per le allodole le allodole dice toni landolo ciao ragazze ciao ragazzi e vi vedo collegati alessandro ciao alessandro ciao maria buongiorno eccoci qua vedo che si sta sbloccando in questo momento allora amici partiamo dalle notizie di oggi andiamo al solo andiamo dopodiché avranno modo di rivederlo i non collegati quelli che stanno ancora magari dormendo la verità partiamo dalla verità fuoco di sbaramento per il timore che emerga la verità attenzione su cosa la prova che la commissione serve fa impazzire conte pd e virostar burioni guida la carica di quelli che la politica non deve toccare la scienza come se le supervisioni sballate lo fossero anche chi è al governo durante la pandemia strepita ma queste indagini si fanno in mezza europa quindi non è solo una cosa italiana attenzione aiuto qui rischiamo di cadere dalla padella brusa ferro alla braccia di bassetti e bassetti intanto volevo confermarvi che con i miei legali l'avvocato mossuto ho preparato la querela per bassetti dopo che ha deciso bassetti di andare in televisione alla 7 e offendere milioni di italiani in modo vergognoso quindi io quelle offese non le accetto e a differenza di altri che si arrabbiano e lo offendono io non offendo nessuno non minaccio nessuno perché non è nella mia nella mia morale però a differenza bassetti è andato a offendere una gran parte degli italiani io mi sento preso in causa in televisione sulla 7 e io ho preparato una querela nei confronti del professor bassetti perché deve smetterla di andare in televisione a offendere gli altri e trovo ingiusto e trovo sbagliato che un medico faccia questo quindi le oltre alla querela preparerò anche un esposto all'ordine dei medici perché trovo che a livello deontologico questo mio pensiero non sia giusto che un medico vada in giro ad offendere soprattutto in televisione ad offendere le persone quindi ve lo confermo oltre open di mentana ho querelato anche il professor bassetti giletti sepolto sotto una montagna di balle povero giletti cosa per casa perquisita soldi nero al mafioso ma la polizia è falsa e smentita da ipm restano la chiusura della trasmissione un'indagine sulla presunta foto di berusconi che boiardo avrebbe promesso a varie tv vabbè tristezza tristezza cambiamo quotidiano andiamo cambiamo quotidiano e andiamo a vedere dalla parte oppostissima andiamo a vedere che dice il fatto quotidiano caccia alla foto di b caccia alla foto di b e ovviamente b e berusconi giletti ipm me l'ha mostrata boiardo scattata forse per ricattarlo caccia alla foto di berusconi con graviano e delfino mamma mia il verbale esclusivo la consegno della foto era legata attenzione attenzione era legata al pressing contro l'ostitivo parlò di un documento sulla trattativa stragi del 93 firenze riapre le indagini mamma mia mamma mia che qua quindi dedicata berusconi a questa foto che ci sarebbe misteriosa andiamo a vedere libero che dice libero esulta la lega attenzione libero parta esulta la lega l'italia ritorna ai decreti salvini guardate onestamente con tutto rispetto io salvini non l'ho stimato per una parte di per una cosa l'ho contrastato tagliando la sua tessera per altre sulla questione migranti è stato l'unico in grado in verità di fermare i flussi migratori quindi capire ne capiremo cosa veramente succederà di questo salvini ma la lega esulta e blitz del carroccio via i permessi speciali migranti protesta dell'onu l'onu torna giusto per romperci le scatole sfida degli eco cretin non si dice non pagheranno le multe attenzione respinta la russa invitate le ong complimenti al pd il pd trasforma il 25 aprile nella festa degli immigrati complimenti complimenti al pd complimenti al pd sempre migliore amici e io vorrei fare un complimento speciale a tutti gli elettori del pd che fanno di tutto per andare contro l'italia e contro gli italiani complimenti continuate così siete bravi sparirete a livello politico velocemente se continua così se continuate così attenzione attenzione e gualtieri gioca scoppa in aula no siamo seri lasso del dem guardate gualtieri il sindaco di roma gioca scoppa usando il suo smartphone cioè amici è lì in aula e con cellulare gioca scoppa queste gualtieri questi sono i pd il massimo che può fare giocare con lo smartphone a scopa forse fa meno danni però giocando scopa il dubbio è lecito che magari intervenendo con delle cose magari sballate quindi gualtieri giochi pure a scopa intanto noi la paghiamo per giocare a scopa andiamo a vedere il resto del carlino che tristezza migranti salvini impone il giro di vite anche qua e questo intervento e questa questo giro di vite proposto a salvini ok dei giudici la riforma e le opposizioni lotteremo ancora in francia amici in pensione a 64 anni e la francia brucia a differenza degli italiani i francesi parlano poco e agiscono molto scontri pesantissimi in francia come vedete sconti pesantissimi in francia cambiamo cambiamo quotidiano vediamo chi dice repubblica pasticcio russo cambia completamente argomento il cui quotidiano è diretto da maurizio molinari pasticcio russo sconto tra magistratura e governo per l'evasione del trafficante tornato a mosca il 22 marzo e nordio diventa un caso il presidente dell'anne santa lucia dell'amn e troppo comodo prenderselo con i giudici il ministro conosceva bene la situazione dopo il pentagon leaks biden che chiede più tutela per i file segreti gran figuraccia degli stati uniti che sono fatti bucare da un 21enne un 21enne che ha fatto fuori i sistemi di sicurezza informatici ha spedito la roba in giro per il mondo fa i segreti è una figuraccia sinceramente per gli stati uniti iper moderni evidentemente anche loro hanno le loro falle andiamo a vedere che dice cambiamo 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 repubblica visto il tempo allora già visto torno ai decreti salvini quindi qua dedicato a salvini andiamo a vedere la stampa perdonatemi la stampa appalti impossibili slitta nuovo pian ancora slitta ancora pnr a vuoto 600 gari in otto mesi che spai che paese che paese il governo chiede altro tempo bruxelles avverte rischiate il 30 per cento dei fondi amici non siamo in grado ci rendetevene conto non siamo neanche in grado in italia di spendere i soldi i fondi non siamo in grado di spendere fatevi delle domande diamoci delle risposte qui non quadra nulla non quadra nulla mamma mia mamma mia veramente forse a dirà che io uscirei dall'europa ma fossi nell'europa butterei fuori l'italia direttamente migranti la lega sfida il quirinale salvini detta la linea va abolita la protezione speciale che il collo aveva difeso un mese fa ma fratelli d'italia frena attenzione fratelli d'italia difende i migranti mentre salvini vorrebbe sfidare tutti dicendo torniamo le vecchie all'origine e fratelli d'italia difende i migranti non diciamo non dico non dico niente sto zitto sto zitto e basta che è meglio stiamo zitti che meglio e vabbè direi che non c'è altro abbiamo visto tutte le cose principali notizie principali ma direi di sì mattino forse non ho visto mattino guardato mattino l'abbiamo guardato no allora attenzione ultime ma chiudiamo col mattino di solito venisse col mattino reddito aiuti a chi assume dice il mattino contributi le imprese che utilizzeranno come stagionali i percettori del sussidio e questo potrebbe essere una cosa molto molto carina perché gli stagionali ce n'è bisogno aiuta le imprese però pagate di più la gente questo è quello che dico io un punto che faccio io perché è fondamentale volete gli stagionali pagateli perché un sacrificio lavorare il sabato e la domenica un sacrificio lavorare ad agosto e un sacrificio lavorare solo i mesi d'estivo durante e durante il il resto dell'anno magari stare a casa ad annoiarsi quindi è fondamentale a incentivare se volete personale lavorare incentivare incentivare le assunzioni e dare qualcosina in più a livello economico perché la gente non può lavorare sotto pagata detto questo vi saluto attenderemo di capire di più da questi decreti salvini se veramente torneremo alle origini e soprattutto capiremo di più sull'argomento iniziale che questo qua della verità la commissione serve fa impazzire conte pd e viro star questo per me il titolo del giorno assolutamente il titolo del giorno è questo ed è quello sul quale discuteremo in questi giorni la prova che la commissione serve fa impazzire conte pd e viro star detto questo vi saluto buona giornata a tutti vi confermo che ho dato mandato il mio legale l'avvocato mossuto di firenze di procedere oltre che per la querela che abbiamo già preparato ed è già pronta a e open anche alle alle professor bassetti per le offese che ha che ha fatto in televisione sulla 7 nei confronti di una grande parte degli italiani e offendendoci pesantemente perché non la pensiamo come lui sul concetto dei vaccini m rna e non dobbiamo avere paura di di querelare queste persone e dobbiamo però evitare di offendere ed evitare di e minacciare per non passare dalla parte del torto limitiamoci a ricevere le sue le loro di offese rispondendo con delle querele come farebbero loro ciao a tutti e buona giornata